Bravo! Cioè noi potremmo essere orgogliosi quando ci sarà un processo che sarà chiuso in tempistiche adeguate, con i veri colpevoli e soprattutto che metta le basi affinché realmente una situazione di questo tipo non possa accadere più. Ora l'unica cosa io spero, come tutte le altre strutture, che ci facciano una buona manutenzione. Per me è quello il punto principale, almeno per rispetto anche dei modi che ci sono stati.